«Persi». «Giapeto!» mughiò Iperione. «Bene, bene! Pensavo che ti nascondessi da qualche parte sotto un secchio per le pulizie!» Bob avanzò a passi pesanti, aggrottando la fronte. «Non mi stavo nascondendo!» Percy si spostò furtivamente verso il lato destro delle porte. Annabeth sgattaiolò verso sinistra. I titani non diedero segno di averli notati, ma Percy non voleva rischiare. Teneva vortice sotto forma di penna. Si accovacciò, avanzando il più silenziosamente possibile. I mostri più piccoli si tenevano a rispettosa distanza dai titani, per cui c'era abbastanza spazio di manovra intorno alle porte. Ma Percy sapeva benissimo di avere alle spalle una folla ringhiante. Annabeth aveva deciso di occuparsi del lato sorvegliato da Iperione, supponendo che il titano avrebbe percepito più facilmente Percy, il quale era stato l'ultimo ad averlo ucciso nel mondo dei mortali. A Percy andava bene. Dopo tutto quel tempo nel tartaro, riusciva a malapena guardare l'armatura dorata e ardente di Iperione senza che gli si offuscasse la vista. Dal suo lato delle porte, Crio se ne stava cupo e silenzioso. Teneva un piede piantato sull'ancora delle catene e il pollice sul pulsante. Bob affrontò i fratelli, piantò la lancia a terra e tentò di apparire quanto più feroce possibile, con un micio su una spalla. Iperione Crio! Mi ricordo bene di tutti e due! Davvero? Il titano dorato rise, lanciando un'occhiata a Crio perché ridesse insieme a lui. Buono a sapersi! Ho sentito dire che Percy Jackson ti ha trasformato in una sguattera facendoti il lavaggio del cervello! Com'è che ti hai ribattezzato? Betty? Bob! Ringhiò il titano buono. Bene, era ora che ti facessi vivo, Bob. Io e Crio siamo bloccati qui da mesi. Settimane, lo corresse Crio. La sua voce profonda rimbombava nell'elmo. È uguale, replicò Iperione. È un lavoro noioso sorvegliare queste porte e trascinarci dentro i mostri per ordine di Gea. A proposito, qual è il prossimo gruppo? Doppio rosso, rispose Crio. Doppio rosso! Iperione sospirò. Le fiamme si fecero più incandescenti sulle sue spalle. Perché passiamo da 22 a doppio rosso? Che razza di sistema è? Lanciò un'occhiata a torva a Bob. Non è il lavoro adatto a me. Il signore della luce, titano d'Oriente, signore dell'alba! Perché sono costretto ad aspettare nell'oscurità, mentre i giganti vanno in battaglia e si prendono tutta la gloria? Posso capire, Crio? Mi toccano sempre i compiti peggiori, borbottò Crio, con il pollice ancora sul pulsante. Ma io, continuò Iperione. Ridicolo! Questo dovrebbe essere il tuo lavoro, Giapeto. Ecco, prendi il mio posto per un po'. Bob fissò le porte della morte, ma il suo sguardo era distante, perso nel passato. Noi quattro tenemmo fermo nostro padre, Urano, ricordò. Crono ci promise il dominio sui quattro angoli della Terra, per averlo aiutato ad assassinarlo. E io ero ben contento di farlo, esclamò Iperione. Avrei brandito la falce io stesso se ne avesse avuta l'opportunità. Ma tu, Bob, sei sempre stato in disaccordo su quell'uccisione, no? Il titano tenero dell'Ovest, tenero come il tramonto. Perché i nostri genitori ti abbiano chiamato il perforatore, non lo capirò mai. Il piagnucolone, semmai. Percy raggiunse il gancio di ancoraggio, tolse il cappuccio alla penna e Vortice si estese in tutta la sua lunghezza. Crio non reagì, era concentrato su Bob, che aveva appena puntato la lancia sul petto di Iperione. So ancora perforare, disse Bob, con voce bassa e pacata. Fai troppo il gradasso, Iperione. Sei brillante e impetuoso, ma Percy Jackson ti ha sconfitto lo stesso. Ho sentito dire che sei diventato un bell'albero, a Central Park. Gli occhi di Iperione si fecero di brace. Fa' attenzione, fratello! Almeno fare l'inserviente è un lavoro onesto, continuò Bob. Pulisco lo sporco degli altri. Lascio il palazzo meglio di come l'ho trovato. Ma tu... tu non ti preoccupi dei guai che combini. Hai seguito Crono ciecamente. E adesso prendi ordini da Gea. È nostra madre, gridò Iperione. Ma per la nostra guerra sull'Olimpo non si degnò di aiutarci, gli rammentò Bob. Preferisce i figli che ha generato dopo di noi. I giganti. Crio grugnì. È proprio vero. I figli dell'abisso. Tenete a freno la lingua, tutti e due! La voce di Iperione era intrisa di paura. Non si sa mai quando sta ad ascoltare, lui! L'ascensore scampanellò. I tre titani sussultarono. Erano già passati dodici minuti. Persi aveva perso la cognizione del tempo. Crio tolse il dito dal pulsante e gridò, Doppio Rosso! Dov'è Doppio Rosso? Orde di mostri si agitarono, spingendosi l'un l'altro, ma nessuno si fece avanti. Crio trasse un sospiro. Ve l'avevo detto di tenersi stretti i biglietti. Doppio Rosso! Perderete il posto nella fila! Anna betara in posizione, proprio dietro il titano. Sollevò la spada addosso di Dragone e sopra la base delle catene. Nella luce infuocata dell'armatura del titano, la foschia della morte la faceva sembrare un malefico spirito ardente. Sollevò tre dita, pronta per il conto alla rovescia. Dovevano tagliare le catene prima che il gruppo successivo tentasse di prendere l'ascensore, ma dovevano anche assicurarsi che i titani fossero il più distratti possibile. Iperione borbottò un'imprecazione. Fantastico! Manderanno all'aria tutto il programma! Poi si rivolse a Bob. Fa la tua scelta, fratello! Combatti contro di noi o aiutaci! Non ho tempo per le tue ramanzine! Bob lanciò un'occhiata ai ragazzi. Percy pensò che stesse per combattere, ma il titano sollevò la punta della lancia. E va bene, farò un turno di guardia. Chi di voi vuole una pausa per primo? Io ovviamente, rispose Iperione. Io, ribatte secco Crio. Ho premuto quel pulsante così tanto che mi sta per cadere il pollice. Io sono qui da più tempo, brontolò Iperione. Voi due sorvegliate le porte mentre salgo nel mondo dei mortali. C'è qualche eroe greco su cui voglio vendicarmi? Oh no, si lamentò Crio. Il ragazzo romano che mi ha ucciso sul Monte Otri sta andando verso l'Epiro. Un colpo di fortuna? Adesso tocca a me! No! Iperione sguainò la spada. Ti sventro prima io, testa da riete! Anche Crio sollevò la spada. Provaci, ma non rimarrò ancora bloccato in questo fetido abisso! Annabeth incrociò lo sguardo di Percy e, muovendo le labbra, disse muta uno, due. Prima che Percy riuscisse a colpire le catene, un sibilo acuto, simile al rumore di un missile in arrivo, gli trafisse le orecchie. Poi un'esplosione fece tremare la collina. Un'ondata di calore scaraventò all'indietro i due semidei. Scuri frammenti trapassarono Crio e Iperione, facendoli a brandelli come un pezzo di legno in un trucciolatore. Fertido abisso! Una voce Cooper rimbombò lungo le pianure, scuotendo il terreno carnoso e caldo. Bob si rimise in piedi a fatica. In qualche modo l'esplosione non lo aveva sfiorato. Brandì la spada davanti a sé, tentando di localizzare la fonte del suono. Bobbino si nascose dentro la sua tuta. Annabeth era atterrata a cinque o metri dalle porte. Quando si alzò, Percy fu così sollevato che fosse ancora viva, da metterci un po' a capire che era tornata a sé stessa. La foschia della morte era evaporata. Si guardò le mani. Anche il proprio camuffamento era sparito. «Titani», continuò la voce in tono sdegnato. «essere inferiori, imperfetti e deboli». Davanti alle porte della morte, l'aria si fece scura e solida. L'essere che era comparso era talmente enorme e irradiava così tanta malevolenza allo stato puro, che Percy avrebbe voluto sgattaiolare via e nascondersi. Invece si costrinse a percorrere con lo sguardo la sagoma del dio, a partire dagli stivali di ferro nero, ciascuno delle dimensioni di una bara. Le gambe erano coperte da schinieri scuri. La carne era fatta di grossi muscoli color porpora, come il terreno. Il gonnellino dell'armatura era formato da migliaia di ossi anneriti e attorcigliati, tessuti assieme come anelli di una catena e sorretti da una cintura di mostruose braccia intrecciate. Sulla superficie del pettorale apparivano e scomparivano dei volti di tenebre, giganti, ciclopi, gorgoni e dragoni, che premevano contro l'armatura come se tentassero di uscire. Le braccia del guerriero erano nude, muscolose, purpure e scintillanti. Le mani, grandi come le pale di una gru. Peggio di tutto era la testa, un elmo di roccia e metallo contorti senza nessuna forma particolare, solo punte frastagliate e macchie di magma pulsante. L'intera faccia era un vortice, una spirale di oscurità che rotteava verso il centro. Sotto lo sguardo di Percy, le ultime particelle di Iperione e Crio furono aspirate nelle fauci dell'enorme guerriero. In qualche modo, Percy riuscì a trovare la voce. Tartaro! Il guerriero emise un rumore come quello di una montagna che si spacca in due. Un rugito o una risata? Difficile capirlo. Questa forma è solo una piccola manifestazione del mio potere, ma è più che sufficiente per avere a che fare con te. Non sono tipo da intromettermi alla leggera, piccolo semitio. È indegno di me avere a che fare con moscerini come te. A Percy stavano per cedere le gambe. Insomma, non ti disturbare. Hai dimostrato di possedere capacità di recupero sorprendenti, ma ti sei spinto troppo oltre. Non posso più starmene in disparte a osservare i tuoi progressi? Tartaro allargò le braccia. Per tutta la valle, migliaia di mostri gemettero e ruggirono, sbattendo le armi e mughiando trionfanti. Le porte della morte vibrarono nelle loro catene. Sentitevi onorati, piccoli semidai, riprese il dio dell'abisso. Neppure gli dèi dell'Olimpo sono mai stati degnati della mia personale attenzione. Ma voi sarete annientati da Tartaro in persona!